Bentornati, guai a chi si muove, perché adesso ne vedremo delle belle. Parto dal curriculum dell'ospite. Laureato con l'Ode in giurisprudenza, è stato un ufficiale dei Carabinieri, procuratore legale, poi avvocato, poi iscritto nell'albo speciale patrocinanti, innanzi la Cassazione, insomma un principe del foro, ma una grande passione. Incantare il pubblico con giochi di magia. Remo Pannain. Avvocato, avvocato Remo Pannain. Grazie Remo. Grazie a te. Lo conosco da una vita e sono rimasto sempre a bocca aperta davanti a quello che è capace di... Eccolo là, subito. Perché lo so che mi chiedi un gioco. Solo uno, va bene, prego. Guarda, queste sono le carte da gioco che tutti usano, quelle per giocare a poker. Eh. Prendine una e falla vedere a tutti. Senza farla vedere immaginazione. Senza farla, ma meglio di no. Allora, quale camera è? Io non guardo da nessuna parte. Eccola qua, questa camera qui. Perfetto. Ok. Rimettila pure nel mazzo e facciamo così. Ti sarai accorto, a casa se ne sono accorti di sicuro, che io non ho aperto tutto il mazzo. No. Per farti scegliere la carta. Perché all'interno del mazzo c'è una carta che viene da un altro mazzo. Eh. Eccola qua. Ok. Adesso, pensa che bello. Se questa carta fosse simile alla tua, io l'ho messa prima. Sapevo. Giro o dici prima tu che carta è simile? No, 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 no. L'asso di quadri? Eh, io mi sento sempre un idiota davanti a queste cose, ma va bene così. Ma guarda, questo è un gioco tanto carino, lo rifacciamo. No, ma... Guarda, metto l'asso di quadri sul tavolo e ti chiedo di scegliere un'altra carta. Sì. Dimmi stop quando vuoi tu. Stop. Prendi questa carta, guarda, la falla vedere a tutti. Ok, la faccio vedere a tutti quanti. Ah, vabbè, la posso vedere anche io perché mi sono dimenticato una cosa, ho portato solo l'asso di quadri da un altro mazzo. Ah. Eh, vabbè, facciamo così, questo è il quattro di fiori, ma provo a fare un'altra cosa. Che succede? Eh no, eh no, eh non si fa così. Sotto il mio... Eh, signore avvocato, lei me l'ha fatta sotto i miei occhi. Quindi, tra l'altro, lo studio legale, il tuo studio legale è frequentato da nomi altisonati. Ma quando è che hai iniziato a interessarti ai giochi di prestigio? Quando ero bambino, a casa mia, come in tutte le case a quei tempi, c'era una televisione sola. Io ero un bambino piccolo, ero ammalato, mio padre spostò la televisione e me l'ha misa in camera da letto. Il sabato sera però volevano vedere Canzonissima. E Canzonissima era quell'anno, si chiamava Scala Reale, e la sigla era Silvan, la sigla d'apertura. Era Silvan che faceva una manipolazione di carte straordinaria. E io, ovviamente, rimasi colpitissimo. Nel frattempo, alla TV dei ragazzi, c'era Gianni e il magico Alverman, che aveva un anello magico che si chiamava Faffi Furni. Ancora mi ricordo, pensate, dopo tanti anni, per cui mi deve aver colpito tantissimo. E subito dopo c'era Occhio al trucco. Delle mani guantate di bianco nella scatola nera che facevano dei giochi di prestigio. E io ho cominciato ad impararli. E quindi da lì è nata la passione per i giochi di bianco. Una passione travolgente. Panain viene da una dinastia di avvocati, una nuova famiglia. Il destino è già scritto, però c'era anche, e c'è, questo sogno di essere mago e fare mago. Ovviamente strada facendo ha incontrato il maestro di magia. Il primo, chi è stato? Un'amica di famiglia aveva il figlio in classe con il figlio di questo signore, che sarebbe poi diventato il mio maestro, e scopre che era il vicepresidente del Club Magico Italiano, ma era anche l'ordinario di chirurgia geriatrica dalla Sapienza, quindi era un grandissimo chirurgo, il professor Zelli, il quale mi ricevette a casa sua, e io scoprì che a luglio, io l'ho conosciuto a novembre del 73, lui a luglio aveva vinto il secondo premio al campionato del mondo dei prestigiatori, pur essendo già un chirurgo fermato. Una doppia vita, ma è quello che è capitato anche, oltre che a te, a Enzo Iannacci, a Mimmo Locasciulli, come dire, tenere i piedi in due scape. Il tuo primo gioco di prestigio che ha strappato il... Vabbè, a casa io avevo... Dove sta? Ecco, mia madre aveva un borsellino, a quei tempi ci stava, me lo dette così un po' rotto, io non sapevo cosa fare. Poi mi sono accorto che dentro ci potevo tenere delle cose, per esempio delle palline. Sono palline di spugna che naturalmente all'epoca erano quelle cose per truccarsi, no? E che avevo fregato ovviamente a casa. Tienila tu, per favore, tienila stretta e fai che la mano si veda bene, perché con queste palline si fanno gli stessi giochi dei grandi maghi. Se io faccio zzz, invece della donna segata in due con la pallina, apri con attenzione, non la faccio bene, apri, ecco le palline, sono due. È facile, una pallina nella mia mano, una pallina nella tua, tieni stretto forte e la percepisci. Io la farò sparire, attenzione, la percepisci? La percepisco. Ancora la percepisci? Sì, e ho sbagliato mano, dovevo metterla in quell'altra, ma non importa, perché è sparita dalla mia. Guarda. Vabbè. Domanda. Ce n'è un'altra? No, forse. Un altro, vai. No, 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 c'è un'altra, scusa, perché per andare avanti ci vogliono tre palline. Vabbè, io rimango sempre a bocca aperta, perché un conto è vederli in televisione o a teatro, ma quando te li fanno sotto gli occhi, tu dici, vabbè, va. Una. È. Due. La terza è in tasca. Adesso a casa si distraggono sempre, rifacciamolo, è un attimo solo tre. Allora, tre palline, una, due, e la terza è in tasca. Se entra qualcuno e si distrugge, mi dici, vai, me lo fai a vedere un'altra volta. Allora, lo faccio dall'inizio. Una, due e tre. Ci avrei il telegiornale con le anticipazioni tra un po'. Una, la seconda la metto in tasca, è in tasca che succede all'implicio, la metto qui. Adesso, quante palline ho qua? Vabbè, però, non è carino prendersi gioco degli anziani. Oh, i genitori, spesso, quando hanno dei figli che nutrono un'insana passione per il mondo dello spettacolo, dicono sempre, è capitato anche a me, cercati un lavoro serio. La tua famiglia, cosa ha detto quando ha visto questo figlio molto bravo nel campo della magia, ma, insomma, anche predestinato alla carriera forense? Allora, intanto io mi sono laureato con 110 Lode, pur aver fatto il servizio militare come ufficiale nei Carabinieri, e con una sessione di ritardo. Quindi, tutto sommato, non si potevano lamentare tanto. Il figlio che tutti vorrebbero avere. Vabbè, vabbè. Però, a casa, mio padre impazziva. Dove vai? Che hai l'esame tra 15 giorni? Papà, vado a fare uno spettacolo, mi pagano, se mi paghi tu, non ci vado. Vai, ma torna presto. Vabbè, dai. E poi ho fatto un patto con mio padre, gli ho detto, io preparo l'esame da procuratore, all'epoca non si diventava, si diventava prima procuratore legale e poi avvocato, preparo l'esame da procuratore, studio, ma se mi bocciano, poi vado un anno in America a fare il mago. E mi hanno promosso, perciò hanno messo agli orali in 200, 205 su più di 2000 candidati. Poi agli orali era, insomma, più semplice. E quindi eccomi qua che faccio l'avvocato con gioia. E immagino che papà poi abbia tenuto da parte tutti quanti gli articoli delle esibizioni del figlio. In tribunale cosa dicono? In tribunale c'è... Intanto tutti sanno che c'è Supermagic e che io faccio i giochi di prestigio. È una passione che coltiviamo tutti. E' successo più volte quando si doveva aspettare l'esito del processo, dove c'è la tensione, perché quando il tribunale si ritira in Camera di Consiglio, l'imputato è terrorizzato, il pubblico ministero non sa, gli avvocati sono preoccupati, e allora dopo un po' avvocato, ma c'erano le carte, e allora faccio un gioco. La cosa più bella è stata qualche anno fa, discuto un appello, quindi la corte d'appello verso le 11 di mattina, dice per l'avvocato grazie, l'appello andò pure bene, per fortuna, l'avvocato grazie però senta, le dobbiamo chiedere una cortesia. La corte adesso ha un processo molto delicato, che ci porterà via tutto il tempo. Ci fa un piccolo intermezzo, così ci rilassiamo tutti e poi ricominciamo. E lì? E lì, vabbè, pro bono con questi casi. Allora, Remo Pannai non è solo avvocato, non è solo mago, ma da 20 anni da, come dire, sfogo a questa sua passione, reclutando i migliori maghi da tutto il mondo, dando vita anche a una rassegna. Sì, super magica, una rassegna che è in scena adesso all'auditorium della conciliazione, con solo i più grandi prestigiatori del mondo. È il ventesimo anno, quindi significa che la cosa funziona, e perché i più grandi prestigiatori del mondo? Secondo me è come la ricetta della pizza, la pizza la sappiamo far tutti, mettere in piedi uno spettacolo di magia, basta prendere quattro nomi. Ma se tu vuoi avere successo, devi fare una pizza con il miglior formaggio, il miglior pomodoro, la migliore farina, e quindi i migliori prestigiatori del mondo, lo spettacolo è bello per forza. Allora, io sono cresciuto a pane Silvan e televisione, mi piacerebbe che la magia potesse di nuovo avere spazio anche in televisione. Detto questo, prima della magia del TG2, che si materializzerà tra pochi istanti, un ultimo saggio della tua bravura. Guarda, io ho portato le carte da gioco per far vedere che le carte vanno trattate veramente con affetto. Il mago deve trattarle bene, perché se non le tratta bene, le carte si lamentano, non sono contente se tu fai tutta questa confusione, e quindi si rovinano. E quindi è assolutamente indispensabile, facciamone vedere bene, Certo, abbiamo rovinato il dorso. Abbiamo rovinato il dorso, ma insomma, questo è solo per dimostrare che le carte sono un po' come le donne, vanno trattate con affetto, con dei fiori, con tante cose belle. Sono le partner del mago. Io mi sento sempre un idiota, lo so, lo faccio... No, no, va bene così. Non è il trucco che va scoperto. Non lo voglio sapere, non voglio sapere, voglio continuare a rimanere a bocca aperta. Grazie a Remo Pannain. Grazie a te. Un abbraccio in famiglia.